11esima vittoria stagionale per le ragazze dei mister Berruti che al campo Roma superano la malcapitata Aprilia per 10 a 2 prestazione da incorniciare per Rossella Tata autrice di 5 reti dopo 5 minuti Grifone gialloverde già in vantaggio da calcio d'angolo Seranai solo in area in sacca di testa al settimo ci prova dal limite Clemente il tiro termina di poco oltre la traversa al nono il Grifone gialloverde raddoppia lancio di Rossi per Clemente che scatta sul filo del fuorigioco salta in uscita Ascire non riesce a concludere Mattata ben appostata sigla la rete del 2 a 0 per il Grifone gialloverde al dodicesimo le ospiti accorciano le distanze con il colpo ravvicinato di Biasotto partita ricca di emozioni dal limite ci prova Ilenia Rossi ma trova pronta a uscire un minuto dopo altra occasione per le padrone di casa ma la conclusione di Clemente è troppo centrale al quindicesimo l'Aprilia porta in parità il risultato ancora una volta con Biasotto direttamente da calcio piazzato immediata la risposta del Grifone slalom di Clemente tra le maglie della difesa avversaria e palla in rete per il 3 a 2 per il Grifone gialloverde al venticinquesimo altra rete per il Grifone Tata serve Clemente che in velocità supera l'avversaria e per la seconda volta batte Escire 4 a 2 Grifone gialloverde passano poco più di 3 minuti e il Grifone allunga ancora il vantaggio questa volta con l'assist di Rossi che serve Tata che sigla la rete del 5 a 2 al trentasettesimo altra rete di Rossi che sfrutta al meglio l'assist di tacco di Seranai tripletta per la numero 9 di casa sul finire del primo tempo è il turno di Lenia Rossi che porta il risultato sul 7 a 2 nella ripresa è sempre il Grifone a creare occasioni da rete come al ventesimo con il colpo di testa di Seranai che esce di poco a lato al ventiquattresimo l'Aprilia usufruisce di un calcio di rigore dagli 11 metri Colli si fa ipnotizzare da Casteltrione che le spinge in angolo nel finale di match il Grifone gialloverde sigla altre tre reti al trentasettesimo con la bella girata di Rossi e la Tata che non lascia scampo a uscire al trentanovesimo su errore della difesa ospite Ilenia Rossi si invola verso la porta e sigla la rete del 9 a 2 al quarantaduesimo la rete del definitivo 10 a 2 per il Grifone gialloverde assegno ancora una volta Rossella Tata che sigla la personale cinquina